Sono molto contenta di essere una rossa nera ufficiale, sono molto contenta. In questo momento sono molto bene, devo allenarmi in palestra tutto il giorno, di riprendere in forza e ora mi sento molto bene. Quando devo presentarmi dico che sono un attaccante forte fisicamente, tecnica e anche un bel tiro. Mi piace fare uno contro uno, quella è la mia qualità. Quando ho raggiunto quel premio pensavo che ho lavorato tanto l'anno scorso, ero molto contenta. È un onore per me. Milan è una squadra che vuole giocare e per me sono un attaccante, anche per me è importante giocare, palleggiare in campo. Secondo me posso dare un po' di forza a questa squadra, anche la positività. Con quelle giocatrici qua a Milan io diventerò una giocatrice più completa. Ciao tifosi, sono molto contenta di essere qua. Farò del mio meglio per voi e per me. Ci vediamo molto presto in campo. Forza Milan! Ciao! Ciaoţ! Ciao! 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 Ciao inspired!